Pace, pace, shalom, shalom a tutti, Dio vi benedica, ben ritrovati, sono felice di essere in mezzo a voi, alleluia, gloria a Dio per questa piattaforma, non posso che ringraziare Dio per dare visione affinché l'Evangelo sia predicato a ogni carne e che tu possa anche tu partecipare a dare la tua spalla, la tua mano affinché questo Evangelo venga predicato in un modo o nell'altro, perché nel mondo corrono altre notizie, se ti sei reso conto, nel mondo corrono altre notizie e che l'Evangelo corra, e che l'Evangelo corra nel nome di Gesù, Amen e Amen. Allora, oggi abbiamo il compito di parlare su questo tema che è la restituzione, già sono contento di tutto ciò che è stato già stato condiviso, seguito una parte degli ultimi due messaggi, e vedo che il Signore un po' continuerà in un ambito di parlare ai nostri cuori, la restituzione. Stavamo leggendo un versetto nel Luca, l'Evangelo di Luca capitolo 19 dal 7 al 10, non so se ci siamo, se possiamo proiettare. Parliamo della restituzione, l'Evangelo di Luca 19 dal 7 al 10. Yes, 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 yes. Non so se mi sentite perché, ok, perfetto, ci siamo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Alleluia. Mentre ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Allora, disse dunque un uomo nobile, in realtà parliamo del versetto di prima, non proprio 11 ma il 7, dove si parla di Zaccheo, Zaccheo. Siamo un po' avanti, Luca 19 dal versetto 7 piuttosto. Ok. Veduto questo, tutti memoravano dicendo, è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho fruttato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perduto. Amen. Leggiamo il secondo versetto, il secondo brano che è negli ebrei, gli ebrei così leggiamo una sola volta, ebrei capitolo 12 dall'1 a 5, ebrei capitolo 12 dall'1 a 5. Yes, 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 epistola agli ebrei. Ok, quindi anche noi siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è posta. Mantenendo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia di chi gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Perciò ha sopportato una, per chi ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. E poi l'ultimo versetto. Avete dimenticato l'esaltazione rivolta a voi come ai figli? Figlio mio, non disprezzate la disciplina del Signore e non predetti d'animo quando sei da Lui ripreso. Ripreso. Amen. Glorie a Dio. Scusate per l'esitazione perché nella schermata mi si chiude un po' la parte superiore. Allora, stiamo parlando della restituzione. Attenzione. Orecchi, 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 orecchi. Abbiamo poco tempo. In poco tempo dobbiamo dare una verità fondamentale, una verità che ti può liberare da un peso che ti stai trascinando da anni. Abbiamo un'informazione che ti può tirare fuori da un sistema in cui sei entrato. sistema di pensiero, sistema di mente, sistema religioso anche. A volte la religione è un sistema che ci blocca perché la libertà è nella parola di Dio, non nella religione. Qualcuno mi dica Amen. Alleluia. Parliamo della restituzione. Qui abbiamo visto la storia di Zaccheo, non abbiamo letto tutta la storia per brevità. Abbiamo capito che Zaccheo si è reso conto che doveva restituire qualcosa. Si è pentito e poi ha cominciato a essere, sicuramente è stato salvato, ha seguito Gesù. Poi vediamo comunque nel secondo versetto di Ebrei, che un po' più dottrinalmente, che ti dice che siamo circondati da una schiera di testimoni. Dobbiamo lasciare il peso che ci frena per correre la gara che ti è posta dinanzi. Io voglio dire a qualcuno stasera e questa mattina o quando tu ci seguirai, tu devi restituire qualcosa a qualcuno per correre, perché quando noi camminiamo, quando noi siamo in una specie di movimento, ci incarichiamo di cose. È la prova. Se tu fai un trasloco, hai fatto già due o tre traslocchi, ti rendi conto di quante cose tu hai in casa. Finché non fai il trasloco, non ti rendi conto affatto di quante cose hai in casa. Anche se la casa ti sembra piccola, sembra che sia una montagna di cose che non finiscono mai, perché mentre tu vivi in quella casa lì, ti prendi dei pesi piccoli o grandi, anche poco alla volta. E il Signore dice, mentre noi stiamo camminando verso la gara, verso la metà, verso l'obiettivo, verso la nostra chiamata, ci stiamo incaricando anche di cose, però, che ci dobbiamo liberare. Nel caso di Lazzaro, di Zaccheo piuttosto, crediamo che c'erano dei debiti, c'erano delle situazioni peccaminose, come magari capita a te, a meno che tu sia santo. Quindi ci sono delle situazioni di irrisolte, di mancanza di perdono, di situazioni in cui tu non vuoi proprio incontrare questa persona. Ok, il grande religioso mi dirà, ma io ho perdonato tutto, io ho perdonato tutto, con un grande sorrisino. Ma tu sai, tu sai, e tu sai, nel tuo cuore, nel profondo del tuo cuore. Se possiamo squacciare il tuo cuore, aprirlo chirurgicamente. E tu sai, e tu sai, che questa persona, tu non l'hai perdonata veramente. E diventa un peso, nel tuo cammino, nel tuo ministerio, nella tua chiamata, in ciò che Dio ti chiama di fare. E man mano che vai avanti, cresce questo peso. Ci sono altri pesi di debiti, debiti veri, anche finanziari. La Bibbia dice, non vi dovete nulla altro che l'amore, che dovete avere gli universioli altri. Questo lo leggiamo, non lo leggiamo adesso, ma si trova in Romani 13, dall'8 a 10, che non dovete avere niente altro debito che amavi gli universi altri. Perché amare è una necessità, e non amare è un debito. Non so se mi hai capito. Non amare il tuo fratello è un debito. Quindi amare è quello che rende scorrevole la tua vita spirituale, è l'amore. E ogni volta che manca l'amore, c'è un debito, c'è un bloccaggio. E quindi assicurati, davvero, di amare il tuo prossimo. Il prossimo non è l'altro prossimo. È quello prossimo. La prima persona che ti viene in mente quando si parla di prossimo. Quello è già il tuo prossimo. Alleluia. Poi, vogliamo prima cominciare dall'inizio. Il vero debito, la vera restituzione, e la prima restituzione, è l'onore e la gloria a Dio. Dio merita la gloria. Dio è l'unica essenza, si può dire, che merita la gloria. Dio, Gesù certo, merita la gloria. Tutti gli altri hanno delle glorie, glorie, si può dire, delegate, perché sono sotto la luce di Dio. E se la prendono, come ha predicato poco fa il pastore fratello, che comunque alcune persone si prendono la gloria che va a Dio. A Dio ogni onore, ogni gloria. Alleluia. La prima restituzione è ridare a Dio la sua gloria. Ti dicono che tu predichi bene, ok. Ti dicono che tu parli bene, che tu aiuti le persone, ok. Ridai la gloria a Dio. Non trattenerti questa gloria. Non dire che va bene, perché non va bene. Quello appartiene a Dio. Se tu l'hai manifestato, è perché Dio ti ha dato la grazia, l'opportunità, la capacità. Magari tu sei stato un pochino attento per ascoltare Dio, ma lo stesso non lo meriti. È di Dio. Alleluia. Se tu non hai dato abbastanza gloria a Dio, non si tratta di pronunciare gloria a Dio, non è quella la gloria a Dio. Non è il fatto che tu ripeta verbalmente gloria a Dio, ma tu devi comportarti, manifestare, dare la gloria a Dio. Ovviamente, e anche finanziariamente, dobbiamo restituire. Quando si vanno in alcuni ristoranti, c'è spesso la mancia, la famosa mancia, perché c'è il riconoscimento, o in certo senso, devi restituire anche. Non puoi solo ricevere delle benedizioni e non restituisci qualcosa a Dio, ma anche alla Chiesa. Non puoi vivere in qualcosa che tu pensi di aver ricevuto. La famosa Chiesa dell'Odicea pensava che era diventata ricca, ma era povera, perché più tu trattieni, la Bibbia dice, chi trattiene di più si impoverisce. Restituzione. Ciò che tu hai ricevuto, l'hai ricevuto perché qualcuno ha pagato il prezzo, perché qualcuno ci ha lavorato, perché qualcuno ci hai pensato. Hai mai pensato che anche il vestito che tu hai, qualcuno ha avuto la concezione di questo vestito? Quindi restituisci la gloria a Dio quando non trovi nessuno a chi restituire la gloria. Dai l'onore all'onore, l'onore al re, l'onore ai governanti. A volte vedo alcuni uomini di Dio, non dico nome, ma che parlano male delle autorità e così anche davanti al pubblico, ma è una cosa assolutamente non biblica. È gravissimo. La Bibbia dice che anche l'arcangelo Michela, pur essendo una gloria, perché parlano delle glorie, dei troni, non ha neanche provato a parlare male di un'altra gloria, che è il diavolo, che è Satana, Lucifero, metti il nome che vuoi. Ma lui ha anche una gloria, pur essendo l'ennemico numero uno di noi. Quindi non devi parlare male delle autorità. Devi dare gloria a Dio e onore a chi onore deve ricevere. Alleluia. Restituzione. Il tuo coniuge, se tu sei sposato, marito, moglie, tu devi restituire l'amore, restituire l'attenzione. Giustamente lavori, forse se lavori oppure sei occupato, ma ha bisogno di te in serata, dovresti restituire questa attenzione. Ha bisogno di te per uscire, anche se non ti piace quell'uscita, anche se sei noioso. Sì, devi restituire quel tempo lì, perché non ti appartiene più a te stesso. Tala, Maya Santa. Tu non sei più di te stesso. Io voglio dire a qualcuno, prima di concludere e di proseguire, che se tu senti questo messaggio, e che hai bisogno di restituire la tua vita, perché ti sei comportando in modo scorretto, hai vissuto la tua vita come se nulla fosse necessario da dare conto a qualcuno, a Dio devi dare gloria. Darai prima o poi gloria a Dio, se non ora, lo darai prima, fra qualche anno. Ma non aspettare quel momento lì, perché Dio giudice non ti darà neanche uno spazio di giustificazione. Dio salvatore, ora, è il tuo avvocato. Yes. Alla fine preghiamo, per ogni persona che ha bisogno di restituire la propria vita, non una parte della vita, non un elemento, non una compartimentalità, ma la tua interezza di vita a Dio. Restituzione e debiti. Non rubare lo Stato. Oh, io so che sto toccando dei temi discutibili, a volte qualcuno dice, non è possibile tutte queste tasse, ma non rubare lo Stato. Gesù stesso, quando gli si viene chiesto, è stato chiesto di dare il suo contributo, ha detto a Pietro, affinché loro non si scandalizzino, fai pesca un pesce, prendi uno e dai uno per me e uno per te. Sapete una cosa? Perché non succedono anche questi miracoli? Possono succedere miracoli di restituzione, di cancellazione sopranaturale di debiti, miracle money, di capacità sopranaturale, di providenza di Dio. Se tu non hai i soldi, preghi, prega e credi che Dio può farlo. Restituzione della tua salute. Per motivi o l'altro, o perché tu hai fatto certe cose, o perché i geni ti hanno raggiunto, perché purtroppo esistono queste cose legate alle famiglie, o forse semplicemente perché il Satana, il diavolo, ha voluto prendere la tua vita, hai perso quella salute piena che avevi. Hai bisogno di ricevere di nuovo la tua salute. Ma cosa devi restituire se tu stai soffrendo? Restituisci la tua mancanza di fede. Vai alla croce e credi, credi, credi insieme a me che ogni malattia scomparirà, ogni male scomparirà. Che cristiano sei se tu subisci la vita, tu che sei posizionato al livello dei re, la Bibbia ci chiama, ti dice che tutto ci appartiene. Siamo seduti nei luoghi celesti. E non è una metafora, come qualcuno pensa. Non è una metafora. È literalmente ciò che è. Dove sei qui se tu sei cristiano e hai conosciuto il Signore? Sei in questo momento preciso, seduto nei luoghi celesti. Ah sì. Basta che la tua coscienza spirituale si connetta con quella naturale e ogni cosa ti sarà possibile, Gesù ha detto, ogni cosa è possibile a chiunque crede. Quindi, restituzione. Restituisci l'amore al tuo prossimo. Sì, restituiscigli l'amore. Se hai qualcosa, condividi al tuo fratello. Se hai qualcosa, soprattutto l'amore, condividi al tuo fratello. Non parlo dei soldi, mi sembra che sia odio. Ma non si dice che devi svuotare le tue tasche. Ma almeno crea la possibilità al tuo fratello di non avere mancanze. Quelli basilari. Alleluia. Questo parla a qualcuno. E qualcuno deve fare qualcosa. E tu sai, tu sai, e tu sai che Dio ti ha parlato. Non aspettare l'indomani. Non aspettare un altro messaggio. Non aspettare di camuflare, di diluire questa spada che ti giunge nel cuore con qualcosa altro. Permetti a Dio di agire nella tua vita. Allora facciamo queste due preghie. La prima preghiera. Restituzione della nostra vita al Signore. Tu mi segui, o mi segui Rari. Forse hai già fatto la preghiera della salvezza, non è neanche quello il punto. Ma tu senti che la tua vita non è allineata. Tu lo senti dentro di te. È una sicurezza di sensazione. Accompagni le altre persone in chiesa. Ma senti che tu, la tua vita, non è allineata con quella del Signore. Allora è tempo di fermarti. Di fare uno stop. Di dire che, Signore, io voglio mettere la mia vita a posto. Se questo è il tuo caso, ascoltami bene. Fermati. A meno che tu guidi, se non fai altro, fermati per un solo minuto. Forse è l'ennesima volta che fai questa preghiera, ma spero che sia la buona questa volta. E dai la tua vita al Signore. Calamai assunto. Ascoltami bene. Se ti suggerisco le parole, tu ripeti dopo di me, ma usa le tue parole, le tue stesse parole. Io magari non uso esattamente le tue parole, ma usa anche il tuo dialetto, è quasi meglio. Alleluia. Signore Gesù, ti ringrazio per la tua parola. Io ho vissuto lontano da te. Ho preso la mia vita come se fosse solo mia. Invece mi è stata prestata da te. Ti chiedo perdono perché mi sono comportato slialmente davanti a te. E ti chiedo, Signore, vieni, ricevi la mia vita perché tu sei morto alla croce per me. Io credo nel tuo nome. Io riconosco che sono un peccatore, che ho bisogno di te per avere la salvezza della mia vita, la vita eterna, per vivere per sempre con te, cominciando da qui. Aiutami, Signore, a trovare persone che mi aiuteranno a fare questo cammino. Grazie perché sei buono. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Glorio a Dio. Se tu l'hai fatto, si riammiamo. Qualcosa è successo. E ti voglio dire che puoi contattare uno di noi e chiedere aiuto. Alleluia. Però c'è un'altra richiesta di preghiera che volevo fare. Prima di concludere, che era su ogni bisogno di pregare per gli ammalati. Ma non solo gli ammalati. Problemi di debiti. Debiti cronici. Ti inseguono i debiti. È come la tua ombra. È come quella di Lucchi Lucchi. Ha dovuto sparare la sua ombra. È come ti inseguono questi debiti. Ovunque tu vai, qualunque cosa tu faccia, non riesci a slegarti. Io sento che qualcuno è dentro questa preghiera. È come se qualunque cosa tu faccia, per forza devi accumulare debiti. Quello è uno spirito. Te ne devi liberare. Io voglio comandare su di te ogni guarigione, guarigione fisica. Metti la mano su di te. Metti la mano su di te e credi insieme a me. Nel nome di Gesù sono guarito. Sono seduto nei luoghi celesti e io credo che sono guarito. Io ricevo la mia guarigione. Io trasferisco la mia guarigione dal cielo alla terra. Il mio corpo sulla terra è connesso, con il mio spirito in cielo. E diventa uno, come Cristo è uno, come i padri. E io sono guarito. E io sono guarito. Non è uno slogan. È una verità. E io la rendo reale. Sono guarito. Qualunque sia la tua malattia. Non la tua attenzione, scusa. La malattia in te. Qualunque sia questa malattia, noi la separiamo da te. Kamanaia Santa. Tu sei seduto nei luoghi celesti. Tu sei una nuova creatura. Sei meravigliosamente creata da Dio. Questa malattia è inclusa. E se ne va via nel nome di Gesù. Che tocchi la tua testa. Che tocchi il tuo petto. Che tocchi il tuo rene. Qualunque parte di te. Nel tuo sangue. Qualunque cosa in te. È inclusa se non è creata da Dio. Connetti il tuo spirito al tuo corpo. affinché il tuo corpo insegua la bellezza, l'interezza, la magnificenza del tuo spirito ricreato da Dio. E così decreto nel nome di Gesù. Ogni debito attaccato alla tua vita uscirà da te. Ma tu fai una cosa. Restituisci. Restituisci. Dai a Dio ciò che è di Dio. E a Cesare ciò che è di Cesare. Dai a Dio ciò che è di Dio. E a Cesare ciò che è di Cesare. Che tu sia guarito nel nome di Gesù. Nel corpo, nell'anima e nello spirito. Amen. Noi. 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 Grazie a tutti